Finisce, in una domenica assolata di dicembre, la breve striscia positiva della lucchese femminile di Nazareno Tarantino, sconfitta di misura dall'orobica Bergamo. Si gioca al comunale di Marlia, vista la concomitanza della lucchese di Pagliuca al Porta Elisa. L'approccio delle rossonere è confortante, anche se il primo tiro in porta è delle neroazzure ospiti. Lo scocca la Devecchis, Marchetti para. Subito dopo la del prete pennella un passaggio sui piedi della tata, che però spreca malamente. Ancora la romana, un minuto più tardi, fallisce una ghiotta occasione. Lancio da centrocampo, la tata si invole, scavalca il portiere, ma il pallone colpisce la traversa. Intorno al quarto d'ora, Piccini perde una palla in area, ma Visani spreca così. Le ospiti sono insidiose, del resto il loro simbolo è lo squalo. Orobica avvicina il vantaggio al 19 con Poeta, il cui tiro Mancino accarezza al palo. Si chiude così un primo tempo piuttosto equilibrato, dove le migliori occasioni, tuttavia le ha avute la lucchese, parsa affatto brillante. Ti aspetti una prova più vivace nel secondo tempo ed invece la squadra rossonera si spegne. Sale in cattedra all'orobica, che costringe le ragazze di Tarantino sulla difensiva. E così al 18 le ospiti si portano in vantaggio, con la rete che deciderà il match. Un gol anche contestato. La Foti lancia in profondità la valletta, che scatta sul filo del fuorigioco, forse al di là. L'attaccante Lombarda approfitta anche di un'incertezza di Lisa Marchetti e deposita in fondo al sacco. Gli animi si accendono e ne fa le spese qualche minuto più tardi lo stesso Tarantino che viene espulso. Impalpabile la reazione delle rossonere, che rischiano di subire la seconda rete. Al trentunesimo bella azione delle nere azzure, ancora con la scatenata valletta, ma stavolta esce bene la Marchetti. Poi l'arbitro fischia l'offside della numero 16. Un minuto dopo, su punizione della Benga, si mischione in area bergamasca. La palla viene allontanata, ci prova la Mastel da fuori aria, ma il suo tiro viene ribattuto. Non succede altro tre minuti di recupero, che sanciscono il successo dell'orobica e alimentano tanta amarezza nella lucchese per una prestazione inferiore alle attese. È mancato il cosiddetto salto di qualità, anche se il prossimo impegno, domenica, sul campo del fanalino di coda Caprera, ancora inchiodato a zero punti, dovrebbe risultare una pura formalità.